Venti, acque forti, ma si va in terremoto, la rimuore faceva. Ecco, sarà questa la nottata molto complicata vissuta dal borgo di Palai a pochissimi minuti di fortissimo vento e di pioggia che hanno causato tantissimi danni. Sono uscita in paese, c'era questa pedala qui, completamente spolsata di tipo 10 metri, quel mobile lì sulle scalette, c'è un delirio di tutto, non lo so. Per fortuna non si contano feriti nonostante ci fossero delle persone in strada che stavano rientrando in casa, così come non si sono rese necessarie evacuazioni, ma lo scenario che gli abitanti si sono trovati davanti è quello di macerie e tegole che hanno invaso la centralissima piazza della Repubblica. Pedana spostata, danni alle macchine di fronte alla chiesa, vetrine rotte, tegole delle case sulle macchine, e quindi la situazione non è stata per niente piacevole all'arrivo, visto che era anche buio e è andata via la luce. Meglio non è andata in località La Scala, a San Mignato. Qui la trombadaria si è concentrata su un'unica casa alla quale ha divelto parte del tetto. In questo caso i vigili del fuoco hanno dovuto sgomberare le tre famiglie che ci abitano. Decine gli interventi nella notte per alberi caduti e piccole frane. A Volterra anche una statua è stata divelta dal basamento. Grazie a tutti.